Si era barricata in camera con l'intento di togliersi la vita, ma i carabinieri sono riusciti a distrarla, disarmarla ed infine scongiurare la tragedia. È successo lo scorso sabato mattina in piazza Andromeda, nel quartiere di Pescaiola, dove i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo, guidato dal maggiore Pierfrancesco Di Carlo, sono intervenuti in un appartamento dove convivono madre, una cinquantenne e figlia di 30 anni. Era stata proprio la giovana ad allertare i sanitari del 118 perché la mamma, in forte stato di agitazione, aveva impugnato un coltello da cucina minacciando di suicidarsi. La donna si era barricata in camera, puntandosi la lama del coltello contro la pancia e minacciando anche i soccorritori. Era infatti pronta a scagliarsi anche contro di loro se solo si fossero avvicinati per sottoporla alle cure del caso. Si era reso così necessario anche l'intervento dei carabinieri che, una volta entrati nell'appartamento, avevano cercato di tranquillizzare la signora, ma in vano era iniziata così una lunga mediazione, andata avanti per oltre 30 minuti. I militari a quel punto avevano tentato il tutto per tutto, con un foglio di carta in mano avevano attirato l'attenzione della donna, mentre nel frattempo un collega era riuscito a bloccare la mano per disarmarla. Il personale del 118 aveva così sederato la cinquantenne per trasportarla all'ospedale San Donato di Arezzo. La donna adesso sta bene e ha iniziato un percorso di cura.